Autrice, scrittrice e regista, Erika Muraka si è resa protagonista di un importante viaggio emotivo di crescita spirituale. Ne ha parlato nel suo primo libro. Ecco di un miracolo, trasformare il dolore in potere, è uscito il 25 di novembre scorso. È il mio primo libro, è autobiografico e parla del mio addestramento più duro in assoluto, dove ho scoperto, ma forse riscoperto, cosa la spiritualità può fare nella materia, ovvero trasformarla radicalmente. Lo scopo di questo libro è non solo quello di essere una testimonianza, ma di essere anche un manuale. Infatti all'interno ci sono proprio anche delle pratiche che possono essere utilizzate qualora si stia affrontando un momento di dolore nella propria vita. Con la speranza di trasformarlo in potere e veramente di vedere un miracolo accadere, un miracolo di trasformazione. E parto proprio dalla mia di esperienza personale e da quello che io ho visto accadere nella mia vita e porto questo messaggio in modo anche semplice, però molto chiaro e potente per tutte le persone che ne hanno bisogno, soprattutto in questo momento. Vivi il miracolo è il titolo dell'evento ispirato al libro di Erika. Il prossimo 24 di febbraio a Roma, al Grand Hotel de Gianicolo, si tiene un evento al quale tengo tantissimo. È un evento completamente ispirato al mio libro, si intitola Vivi il miracolo ed è aperto a tutte quelle persone che hanno un grande desiderio, una speranza da realizzare e che vogliono avere delle chiavi per riuscire a materializzarli il prima possibile, il più velocemente possibile e nel modo più espanso possibile. Ecco, questo è un evento che ho pensato per tutte quelle persone che vogliono trasformare immediatamente il loro dolore in potere. ispirato completamente a questo libro. Quindi il 24 di febbraio vi aspetto dalle 16 alle 22 al Grand Hotel de Gianicolo a Roma. Erika Muraca è l'ospite di Angolo d'Autore. La rubrica culturale di Canale 10 inonda questa sera alle 20 e 30.